Ciao a tutti i miei principi e principesse e bentornati su MTV! Nel video di oggi vi porterò in un'avventura negli angoli più oscuri della terra in un'esperienza così traumatica che passeranno anni prima che voi riusciate a dimenticarla e cioè vi mostrerò alcune delle mie vecchie foto imbarazzanti come ogni persona a questo mondo ho anch'io uno scuro passato soprattutto i miei anni delle medie sono davvero da cancellare con una grande X per quanto riguarda il mio aspetto, non dico adesso di essere una top model però le immagini che state per vedere potrebbero veramente essere traumatiche Oh fantastico, cominciamo bene con una meravigliosa foto di quando ero bambina ancora, ero un piccolo angioletto dai capelli biondi, la pelle chiara, gli occhi azzurri mi vestivo in modo imbarazzante, spesso facevo cose imbarazzanti, altrettanto spesso in particolare in questa foto sono con quella che è tuttora la mia migliore amica Alice e stavamo facendo qualche tipo di balletto o recita in questo meraviglioso completo e sì, devo dire che lo stile ha sempre fatto parte di me sono sempre stata una persona molto stilosa questo abbinamento resta ancora oggi uno dei migliori che abbia mai elaborato beh, questa foto mostra semplicemente le mie discendenze vichinghe proveniendo io dal Danimarca, i miei tris, tris, trisavoli sicuramente saranno stati dei vichinghi con quei bellissimi cappellini con le corna semplicemente patriottica al massimo una cosa che facevo molto durante le estati quando appunto andavamo in viaggio in Danimarca o Svezia era portarmi la casa intera dietro in aereo mi portavo addirittura la decappottabile delle Barbie perché non potevo farne a me nel viaggio, capite? un bene di prima necessità proprio non potevo viaggiare da nessuna parte senza svuotare la mia camera e portare con me tutti i giochi che avevo in questa foto mi trovo sul mio balcone con mia cugina e stavamo facendo finta di fumare delle sigarette eravamo molto convinta nel nostro ruolo eravamo sempre a giocare e travestirci ci è sempre piaciuto tantissimo non so cosa stessimo giocando quale personaggio rappresentassimo in quel momento però di fatto favolosa beh, questa foto non ha bisogno di spiegazioni direi semplicemente mi trovavo in Danimarca d'estate e l'espressione dice tutto semplicemente sono sempre stata un pagliaccio a me mi sono sempre divertita a fare espressioni divertenti oppure spaventose dipende dai punti di vista e ho molte foto del genere purtroppo ho trovato fin troppe foto simili a queste mentre stavo cercando fra i miei vecchi album quindi la cosa è un tantino preoccupante questa espressione davvero è commovente sempre in Danimarca d'estate e sempre travestita da signor notare per la convinzione del mio sguardo proprio mi sentivo proprio entravo nel ruolo con tutta me stessa devo dire che era una bambina in gamba c'è proprio complimentoni fantastica sì, questa è una cosa molto imbarazzante ho moltissime foto di me che sto dormendo perché mia mamma a volte faceva un po' la stalker e mi fotografava mentre dormivo è un tantino inquietante e la cosa strana è che ho sempre dormito nelle posizioni più assurde io non so come non so cosa ma questa è una delle più normali direi ci sono delle foto ben più strane non so come facevo a stare comoda con le gambe attorcigliate ma non lo so mi addormentavo distesa in un modo mi svegliavo in fondo al letto girata dalla parte opposta quindi meglio non fare domande questa foto con i miei genitori in vacanza credo a Parigi eeeh beh che dire ogni frangetta stupenda questo è il motivo per cui non avrò mai più la frangia me lo posso assicurare la mia espressione meravigliosa e anche il maglione multicolor la strisce devo dire che ha il suo fascino forse vabbè passiamo alla prossima foto parlavo prima di fare il clown e fare espressioni imbarazzanti eccomi qua che torno all'opera sempre da rimarca sempre d'estate stavo mangiando dello zucchero filato meraviglioso e non so perché mi è venuta la splendida di mettermi in posa in questo modo meraviglioso meglio non fare domande beh questa foto era da farvi vedere solamente per farvi vedere un piccolo esemplare di Sissi la mia gattina che era tanto magra e tanto carina un tempo carina l'ho ancora magra forse un po' meno questo è un esemplare di Emma prima di Youtube questa foto rappresenta semplicemente il fatto che io abbia sempre amato le telecamere e il mondo dei film dei video quindi ripensandoci adesso non è poi così sorprendente che sia finita a fare quello che sto facendo adesso cose imbarazzanti espressioni imbarazzanti non mancano mai il pigiama ce l'ho ancora mi va ancora ed è sempre bellissimo col caprone oh no oh no questa cosa mi preoccupa ecco questo è senza dubbio il periodo più oscuro della mia vita la prima media in cui ho pensato bene di diventare una specie di dark emmo no emmo no però una specie di cosa non lo so mi vestivo con colori molto scuri non so perché ma semplicemente avevo avuto questo momento di cambiamento radicale dalle elementari alle medie alle elementari mi vestivo tutto di rosa sembravo una principessina alle medie avevo detto sono grande mi vesto da grande quindi mi vesto di nero avevo uno zaino nero un ipod nero tutto quello che riuscivo a trovare in versione nera lo comprovo nero questi sono incisamente gli anni più oscuri della mia vita scuri letteralmente ma siamo oltre perché è un periodo che non voglio ricordare non so se questo periodo è molto meglio stavo ricominciando a inserire i colori nel mio guardaroba sempre io con mia cosina Nicole e ero a Mirabilandia e le mie espressioni sono sempre meravigliose a chi me l'ha fatto fare sempre a Mirabilandia con la mia migliore amica Alice non c'è bisogno di commenti questa foto parla da sé allora pigiama party con la mia migliore amica Alice lo smalto di colori diversi su ogni dito è un tocco di classe senza dubbio le foto con la lingua fuori erano super di moda all'epoca e questo deve essere stato uno dei miei primi selfie fatto con la mia macchinina fotografica mi ricordo benissimo altra foto con Alice molto imbarazzante altamente imbarazzante ed è incredibile quanto noi ci sentissimo grandi e in in questa foto e infine le ultime due foto questa è con la mia amica Rachele ho voluto ritentare l'esperimento frangia a quanto pare e non è andato bene è stata la volta in che ho capito definitivamente una volta perdute che la frangia non fa per me espressioni meravigliose le famose foto allo specchio prima che esistissero i cellulari con la telecamerina interna che ricordi? e infine questo è preoccupante perché è relativamente recente che è di tre anni fa con una delle mie migliere amiche Lucia è la primissima foto che abbiamo fatto insieme proprio all'inizio del liceo e non ho niente da dire un piccolo esemplare di Emma e anche di Lucia mi dispiace Lucia per questo interessante trucco interessante posizione interessante posa interessante tutto devo dire che chi me l'ha fatto fare? spero che questo video sia stato divertente per voi almeno quanto è stato imbarazzante per me è sempre anche divertente ed ha parecchia nostalgia rivedere delle vecchie foto dopo tanti anni queste foto portano sempre un mix di emozioni incredibili fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel pollice in su scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e se volete mandatemi sui miei vari social trovate i link qui sotto qualche vostra foto imbarazzante so che non avrete il coraggio di farlo ma se qualcuno ha il coraggio di farlo vi stimo alla fine secondo me è inutile vergognarci di queste cose bisogna saperle guardare comunque ricordandoci che è normale cambiare nel tempo ed è giusto così impariamo piano piano con l'esperienza quali vestiti ci stanno bene quali no quale taglio di capelli trucco e stiamo sempre imparando io sto imparando tutt'ora fra molti anni probabilmente vedrò le mie foto di questi anni e impallinerò al ricordo però è proprio questo il bello piano piano impariamo e cresciamo sempre di più iscrivetevi al canale se non volete perdervi i miei prossimi video e fatemi sapere se volete prima o poi vedere qualche altra foto imbarazzante perché mentre stavo cercando sul computer purtroppo per me ne ho trovate parecchie davvero parecchie questo è solo l'inizio purtroppo spero che avrete una splendida magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video spero grazie a tutti